Buonasera a tutti e ben ritornati o benvenuti nel canale Oggi faccio finalmente il video sui mascara dell'Essential, il Sexy Eyes e il Brave Eyes che mi permettono di avere questo effetto ciglia finte alle ciglia appunto infatti parecchie persone mi chiedono che mascara uso o se addirittura porto le ciglia finte sia su Youtube ma anche e soprattutto dalla realtà me lo chiedono e in realtà uso questi due mascara dell'Essential che è una marca italiana di Roma è un video che vi avevo anticipato parecchio tempo fa ma non ho mai trovato l'occasione o il tempo per farvelo e finalmente eccolo qua durante il video vi farò vedere l'applicazione, vi dirò tutte le informazioni che mi vengono in mente i pro, i contro, il costo eccetera eccetera spero di non essermi scordata niente ovviamente sono in ritardo quindi ho cercato di fare il tutto il più veloce possibile cercando di ricordando tutto quindi ora io mi finisco di toccare che sono in ritardo e vi lascio il video allora questa è la differenza tra un occhio e un altro questo l'ho appena applicato e non l'ho applicato benissimo perché quest'occhio in sinistro è sempre più scomodo rispetto all'altro e quindi parto con l'applicazione vado a mettere prima il Sexy Eyes che è appunto il mascara per allungare le ciglia questo è lo scovolino, vedete che è irregolare, fatto tipo così tam tam tam, tipo, non so se lo capite, quasi a pallini non è una spiegazione tanto tecnica però per farvi capire che è fatto così e appunto lo vado ad applicare per dare l'effetto allungante alle ciglia e come vedete io parto dalla base, premo e poi stendo il prodotto in modo che incurvo le ciglia e le intensifico di più perché la cosa importante è intensificare prima la base e poi il resto delle ciglia scusate se suona il telefono in sottofondo e poi vedete che ruoto leggermente lo scovolino in questo modo così per pettinarle e stendere meglio il prodotto mi stavo per cercare e ovviamente io faccio diverse passate sono comunque dei mascara modulabili perché in base a quante passate fate e come li applicate potete ottenere un determinato effetto che può essere sia più pesante come quello che farò io ma anche più leggero perché se fate una o due passate e fate un'applicazione più veloce l'effetto è molto più leggero invece se lo applicate come sto facendo io e la quantità che sto usando io vedete che avete questo effetto di ciglia super intense che sembrano appunto ciglia finte e come sempre io mi concentro sempre di più nella parte finale dell'occhio mentre all'interno cerco di fare le ciglia un po' più pettinate e meno intense perché mi piace avere l'effetto dell'occhio così mentre se l'interno lo lasciate più chiaro o comunque meno intenso avete l'occhio un po' più grande, un po' più dolce tra virgolette per lo stesso concetto che si applica l'ombretto chiaro al centro della palpebra mentre l'angolo interno si scurisce lo stesso concetto appunto lo uso per il mascara e poi alla fine cerco di pettinarle vedete questo è l'effetto solo con il mascara allungante e ora invece vado ad applicare il brave eyes che ha uno scovolino diverso è più cicciotto fatto tipo a rombo con la punta più stretta poi si allarga poi si ristringe per tutto il resto dello scovolino e questo appunto serve per volumizzare e intensificare la situazione e infoltire questo lo applico diversamente vedete che sì, parto sempre dalla base ma faccio una cosa un po' più veloce in più mi sembra che la texture o comunque questo mascara è un po' più morbido rispetto all'altro e lo consumo più difficilmente il sexy eyes di solito lo finisco prima o mi si secca prima invece questo per infoltire ci metto più tempo a finirlo forse anche perché ne metto di meno ecco, vedete questo è l'effetto rispetto a quest'occhio di solito qui le ciglia mi vengono più allungate ma comunque infoltite e più pettinate nell'altro occhio dove appunto sono più scomoda mi vengono un po' diverse mi piacciono un po' di meno però non fa niente quindi questo è l'effetto delle ciglia certe volte dopo il breve eyes è arrivato ad applicare un altro po' di sexy eyes se vedo che mi si sono appiccicate troppo e le voglio allungare di più infatti comunque se ne applicate così tanto può dare un effetto un po' grumoso c'è chi lo definisce un po' a ragnetto però a me mi piace proprio così e comunque non faccio sempre questo effetto alle ciglia molto spesso applico altri mascara solo per allungare e volumizzare ma senza dare questo effetto giglia finte che però è bellissimo tante persone mi chiedono che mascara uso se ho le ciglia finte o mi fanno i complimenti allora come contro ha il fatto che non è low cost costa 20 euro l'uno quindi 20 euro il sexy eyes e 20 euro il brave eyes sporca leggermente la palpebra perché comunque i riscovolini sono belli presenti soprattutto quello del brave eyes però non esageratamente nel senso che ci sono mascara che sporcano ancora di più come pro invece secondo me ce ne sono molti perché sono di una buonissima qualità sono super duraturi durano veramente tantissimo sono super pigmentati facili da stendere sono modulabili quindi non pensate che sono mascara che vanno bene solo a chi vogliono questo effetto ma potete ottenere anche un effetto meno intenso vi lascio nell'info box i link al sito per acquistarli io li acquisto da una estetica vicino al mio paese non so se si vendano anche in altre parti quindi io per sicurezza vi lascio i link online la marca appunto come penso ho detto nell'intro è Essential che è una marca italiana che dovrebbe provenire da Roma e entrambi sono il numero 100 black e contengono 10 ml di prodotto dall'apertura potete usarli per 6 mesi queste cose ci sono scritte tutte in questo bollino piccolino ma veramente sono scritte piccolissime ovviamente io li applico in combo però questo non significa che se ne comprate uno dovete per forza comprare quell'altro dipende voi come vi ci trovate e dipende l'effetto che volete io saranno tipo 5 anni che utilizzo in mascara di questa marca e ottengo questo bellissimo effetto quindi io spero che il video vi sia piaciuto spero che vi sia stato utile fatemi sapere se volete acquistarli grazie per averlo visto grazie se avete lasciato un like alla prossima ciao